Il giusto assetto, l'ex privia Molfetta, lo ha trovato con gli arrivi di Torres e De Spagne, la crescita del palleggiatore Ierrezzuelo e l'apporto vincente anche di giocatori entrati dalla panchina come il veterano Francesco Del Vecchio. La somma di questi elementi dà come risultato un finale di girone d'andata da grande squadra, battendo Ravenna in trasferta e i campioni d'Italia di Macerata in casa, oltre al successo netto su Milano nella prima gara del nuovo anno e del girone di ritorno sempre al Palapoli, e l'avvicinamento di quel il fatidico ottavo posto che avrebbe potuto significare Coppa Italia ed in prospettiva vale la qualificazione ai play-off scudetto. Traguardo possibile per Molfetta, anche se ancora lontano nel tempo, con l'olandese Alen Skett, uno degli elementi più continui di questa prima parte di stagione, che ritiene essere alla portata della squadra. Sì, sì, certo può arrivare, però dobbiamo andarsi bene, giocare bene e speriamo alla fine come finisce. Il prossimo fine settimana sarà di riposo per l'Exprivia, ci sono le finali di Coppa Italia a Bologna e per certi aspetti la sosta torna utile a Vincenzo Di Pinto per proseguire il lavoro di inserimento di Torres, già decisivo contro Macerata e Milano, i recuperi di Noda Blanco, ha giocato poco nell'ultimo periodo a causa dei malanni di stagione, e di Marco Piscopo, che dovranno chiedere spazio per una maglia da titolare, in un Molfetta la cui fisionomia è tracciata, come anche gli obiettivi di questa stagione.